Si sono concluse al Castello di Solfagnano, sede dell'Accademia Monacelli Italy, le tre giornate organizzate per la collezione moda Primavera-Estate 2019 e coordinate da Roberto Celesti, responsabile della formazione e comunicazione aziendale. La collezione, come sempre, è dedicata ad un artista e quest'anno Monacelli Italy ha scelto Leonardo da Vinci che ha saputo rappresentare, grazie al suo genio, la bellezza nelle sue diverse forme. L'apertura dell'evento è stata condotta da Alessandra Boaro, consulente di immagine ed esperta di moda, che ha illustrato le macro tendenze sociali, le trasformazioni antropologiche globali, il rapporto delle diverse generazioni con la moda e ha fornito ai presenti gli strumenti necessari per relazionare con questi diversi target. La novità di questa edizione è stata quella di aver dato l'opportunità agli hair beauty consultanti intervenuti dall'Italia e dall'estero di sperimentare la nuova formula Experience Lab, ovvero cinque differenti ed esclusive aule organizzate per alzare il livello tecnico-artistico ed avere una nuova visione per guardare, progettare e creare la bellezza oggettiva. Nella prima aula, intitolata Bellezza e conformità, l'amministratore delegato Giorgio Monacelli ha presentato un viaggio storico-artistico sulla vita di Leonardo da Vinci e sulle sue opere che meglio hanno rappresentato la ricerca della bellezza nei suoi tratti di oggettività e conformità, sottolineando che l'operazione del pittore non deve essere pura imitazione della natura, ma immaginazione, visione e realizzazione dell'opera conforme alla bellezza naturale. La seconda aula, intitolata Luce ed ombre, è stata condotta da Riccardo Truffarelli, fotografo e documentarista insieme a Cristian Nanni, teacher Monacelli Italy, l'artista e illustratore Giuliano Rossi e la teacher Monacelli Italy Elena Venturelli. Nell'aula i particolari che fanno la differenza hanno insegnato come osservare e disegnare un volto attraverso le giuste proporzioni. Nell'aula forma e colore, le teachers Monacelli Italy, Sabrina Locci, Cinzia Nifini e Alessia Balducci hanno presentato le immagini ufficiali della Leonardo da Vinci Collection, spiegando le tecniche relative a taglio, colore e piega che sono state impiegate per la realizzazione degli scatti. L'evento si è concluso con l'aula del professor Luciano Tittarelli, docente dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, che ha spiegato l'evoluzione dell'approccio artistico nella rappresentazione dell'anatomia umana. L'evento è stato particolarmente apprezzato per la sua formula nuova, unica e differente, e per aver dato ai partecipanti una nuova chiave di lettura per confrontarsi con il mercato della bellezza, attraverso conoscenze e competenze che vanno oltre gli standard usuali e obsoleti.